1. Devo iniziare da dove? 2. Questo fiume fino a dove scorre? 3. Di dove sei? 4. Dove stai andando? 5. Da quando vivi in Italia? 6. Fino a quando starai? 7. Entro quando devi fare i compiti? 8. Di cosa stanno parlando? 9. Con cosa è fatta questa torta? 10. Di chi stanno parlando? 11. Per chi è la rosa? 12. A chi stai telefonando? 12. A chi stai telefonando? 21. Mi più hipины con cosa è? 13. Arc?